Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nella parte 2 della sfida su Clash Royale Prima cosa andiamo a prenderci la domenica epica Gratuito Speriamo di vincere Anche se non manca soltanto una sconfitta E 4 vittorie Quindi è un po' difficile Però noi speriamo di vincerla Niente raga Ok raga Ok raga Ok raga è una buona scelta da lunetta Ottimo Allora Forse è una mia moglie C'è chi chi Ok, dobbò Mi sento un po' un po' un po' un po' ok ok non voglio capire quanto anche forse facciamo un'altra torre non so se riusciamo a dare l'oltre però ricordare che infernale ce la fa gg per noi non credo che si può ancora recuperare il dominatore ok non credo che iniziamo con caldo un'altra torre l'intervento a bomba non è riuscita col pilator anzi si ce l'ho fatta ho fatto un bel po' di zon vedrai che infernale un'altra torre un'altra torre un'altra torre che c'è da dire che mi ha fatto una torre anche quella da verso sinistra l'ho fatta un'altra torre non è arrivata l'ho vinta anche l'ha vinta gg e ci mancano se non mi sbaglio solo due partite esatto 2000 di oro tru elektran JOVA 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 Ok, non ho mai la giocata che ha fatto il nostro avversario, vediamo se la lunga alferra fa che danno, no, per poco però. Ok, non ho mai la giocata. Intrugando. Ok. 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 prendiamoci mille di oro. Ok. 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 ok.